Siamo con l'amico e collega Giorgio Fagotto, tu Giorgio stai partendo questa sera per la scoperta del Mediterraneo, parti da Marano e vai in Sicilia per poi fare il giro della Sicilia da solo in barca a vela. Ecco, ci puoi illustrare le motivazioni per le quali hai pensato di fare da solo questo viaggio e cosa ti proponi su questo viaggio? Quando sono stato a Dubrovnic io ho vissuto un'emozione interiore, spirituale, di crescita interiore perché mi sono sfidato e ho vinto io. Ho trovato buraschi, ho trovato tanto sole che mi bruciava, tanta fatica, ero veramente cotto dalla stanchezza, però ci sono arrivato. E dopo ho detto, se la barca è più attrezzata, se la barca è irrobustita nella sua opera viva, con la resina epossidica, avendo scoperto una crepa che tagliava a poppa via la deriva stessa di vetroresina, ho pensato di fare tutto con resina epossidica, un lavoro di 13 mesi e già lì mi sono provato perché gli occhi bruciavano, erano carne viva, ma soffrire mi abitua, mi tempra alla sofferenza che poi in barca avrò veramente perché è quasi un'esperienza al limite con me stesso. Veramente io mi spingo al limite perché è questo che voglio io. E senti Giorgio, quante tappe fai? Allora guarda, Senigallia vado a trovare il conte Giovanni Agusti Martinez che mi ha invitato, poi vado a Lecce, ma prima a Fano, lì ho degli amici carissimi e poi vado a Lecce dove un professore ha la mia stessa barca e lui mi ha detto Giorgio come arrivi, telefonami che io vengo nei porti della Puglia e così stiamo un po' assieme e progettiamo le rotte. Lui è stato a Siracusa e quindi mi ha detto guarda che troverai onde da 6 metri, no, normalmente, però la nostra barca l'arpeggio ce la fa tranquillamente. L'importante è avere, me l'ha detto, me l'ha specificato, la corrente a favore e il vento a favore. Una delle motivazioni per cui vado a Siracusa è perché a Siracusa ho i miei cugini, ce ne ho, vivi ancora 7 penso. Allora questi cugini erano 11 ed erano fagotto, mio zio Armando ha sposato la contessa Berlinghieri di Firenze e quindi la Maria Vittoria è contessa e lei mi ospiterà e quindi avremo modo di salutarsi, però io porterò un dono al sindaco di Siracusa da parte del sindaco di Portogruaro e questo è molto bello perché il sindaco di Portogruaro mi ha dato fiducia, mi ha detto Giorgio vai e mi ha lasciato anche uno scritto nel libro stesso dove dice il dono ti viene portato dal Giorgio Fagotto, velista solitario. Ecco Giorgio, tu dovresti mandare dalla barca delle news e noi magari sul telegiornale percorreremo il tuo viaggio, sarebbe bello questo. Sono in famiglia con voi, quindi tra amici ci si mette tutto in comune e io vi mando whatsapp, tutte le immagini che mi emozioneranno, che mi daranno veramente, mi commuoveranno perché io mi commuovo di fronte alla bellezza dei cieli stellati di notti in mezzo al mare, guardate che nessuno, io non avevo mai visto prima cosa del genere, sono stupendi e poi la burasca, la burasca, io ho la GoPro, la telecamera che vede sotto la bufera, sotto la burasca e quindi io vi manderò con fascio di luminoso da 800 metri anche, vi manderò queste immagini che sono inedite, uniche, fatte da uno che ha 68 di primavera, ma giustamente uno diceva che ne hai quasi 70 di primavera. Ecco Giorgio, ti facciamo i migliori auguri e naturalmente non fermarti in Sicilia, ma ritorna da noi insomma. Io ritorno sempre a casa perché ho le mie nipotine, ho la Noemi, ho la Malia e ho Mario, ho le mie figlie, ho i miei cuori e quindi io sono nonno e sono papà e quindi io ritornerò sempre.